Allora? È successo qualcosa? Mi ha detto te di correre qui, che cosa... È successo qualcosa o no? Uè! Oggi stavo guardando il cielo e ho detto secondo me pioverà, vedi quelle nuvolettine nere? Però l'ombrello non l'ho preso e... il lavoro sta andando bene. Tra poco inizio a lavorare con tanti bambini, lo sai quanto li amo, i bambini? Sì. Mi vuoi sposare? Guido Zanin. Mi vuoi sposare? Non parti più. No, parto. Parto, però prima noi ci sposiamo, così sarà... sarà la signora Zanin che non vede l'ora di tornare dal suo marito. Ah. No, ok, ok. Tu adesso non devi essere così impulsivo. Non mi rispondere adesso, amore. Devi essere sicuro, come lo sono io, fino in fondo. Sicuro, fino in fondo. Ok? E allora cosa risponde? Eh... Non glielo posso dire a lei, signora, prima di dirlo alla mia fidanzata. Non posso. E mi lascia così? Eh. Non parte. Grazie. Grazie a tutti